Il Red Bull Ring di Zeltweg ha ospitato la prima delle due gare che il Moto Mondiale correrà sul circuito della Casa Austriaca una gara di MotoGP che ha due risvolti importanti la prima è il vincitore che è Andrea Dovizioso fresco di Non Rinnovo con la Ducati come ho spiegato nel video extra di sabato scorso e il secondo è evidentemente l'incidente clamoroso che è successo al nono giro della prima gara, quella prima parte di gara tra Johan Zarco e Franco Morbidelli, tanti spunti da parlare in questo Racing Podcast partendo ovviamente dall'incidente che ha coinvolto appunto il pilota francese del team Avintia e il pilota italiano del team Yamaha SRT al nono giro succede l'irreparabile, un sorpasso tentato da Zarco nei confronti di Morbidelli spedisce entrambi per le terre, quello che però preoccupa è la corsa della moto di Zarco che non si ferma, non impatta le barriere e attraversa quella che vedete la curva numero 3 del tracciato di Zeltweg a piena velocità, parliamo di 280 all'ora è andata veramente di lusso a Valentino Rossi e a Maverick Vinales che si sono ritrovati un proiettile vicino alle loro teste ed è andata bellissimo così che ci sia stata soltanto la bandiera rossa e qualche lieve infortunio per i due piloti per fortuna né il pilota di Tavuglia né il pilota spagnolo Vinales hanno riportato conseguenze gravi, sono usciti illesi lo shock però è stato enorme perché appunto come vedete la moto di Zarco si ribalta e tanti piloti hanno dovuto evitare quella che è stata la collisione appunto causata dalle moto di Morbidelli e Zarco in particolare Valentino Rossi è rimasto molto scioccato da questa situazione e giustamente ha avuto veramente tanto coraggio secondo me a ripartire dopo la ripartenza causata dalla bandiera rossa vedendo l'incidente è ovviamente abbastanza facile dare la colpa a Zarco che è già stato protagonista di un incidente nella scorso Gran Premio in quel caso non fu colpa di Zarco secondo me ma fu di Paul Spargaro in questo caso Zarco ha piena responsabilità di questo grosso incidente perché dall'esterno tagliare la strada a 300 all'ora al tuo diretto avversario che intanto hai già superato ma di cui non hai percezione con il corpo e non sai precisamente dove sia è una manovra molto pericolosa e le conseguenze sono viste in questo caso non al momento ci sono notizie per quanto riguarda provvedimenti sul pilota francese che evidentemente è responsabile qualcuno auspica una squalifica di almeno una gara per il pilota che è comunque nell'orbita della Ducati visto anche l'addio di Andrea Dovizioso però evidentemente questa è una manovra oltremodo pericolosa e in questo caso spesso la federazione ha preso provvedimenti è un incidente molto grave ringraziamo nostro signore che nessuno si sia fatto male il Gran Premio d'Austria è in realtà un po' la fiera degli incidenti gravi perché anche in Moto2 e apro una parentesi ma di ripassare al vincitore della gara di ieri quella appunto d'Austria ha visto una gara di Moto2 condizionata anche questa è una bandiera rossa qui vedete al lato della pista Enea Bastedini che si scansa dalla pista visto che effettivamente la sua moto ha avuto un high side e l'ha piantato dopo la prima curva di circuito del Red Bull Ring la moto rimane per terra e purtroppo Hafiz Yarin, pilota malese di ritorno dalla MotoGP su speed up c'entra in pieno la moto del pilota di Rimini che ovviamente gli permette di fare un volo incredibile batte il bacino per terra il pilota malese Yarin se la cava tra virgolette con soltanto una frattura e anche qui ci poteva scappare molto di più secondo me di un incidente normale di gara è una situazione molto pericolosa anche questa e mi auguro che per le prossime gare la FIM o quantomeno l'organizzazione del circuito possa fare una gara ovviamente più in sicurezza vedremo cosa succederà sia per quanto riguarda Zarco sia per quanto riguarda Morbidelli e Sia Rils e correranno la prossima gara che sarà sempre in aus la campagna di Budistiria ma torniamo alla gara invece del presente quella in realtà di ieri perché ha vinto quest'uomo Andrea Dovizioso che il giorno dopo aver lasciato la Ducati ufficialmente senza neanche intavolare la trattativa mi fa godere e mi fa tornare alla gioia per la vittoria di uno dei miei piloti preferiti di questo circuito Dovizioso diciamo si riscatta dopo già un avvio di stagione abbastanza problematico ed evidentemente questa è l'ennesima prova che aver la mente libera evidentemente fa fare il click ai piloti come Andrea Dovizioso Dovizioso va a vincere se non sbaglio la quindicesima gara con la Ducati nel moto mondiale e per lui suona Fratelli d'Italia è un podio che fa riavvicinare Dovizioso alla testa del campionato visto che ancora una volta Fabio Quartarro non ha concretizzato molto bene è un campionato dove ogni gara sembra che ci siano valori diversi una volta vince la KTM qui la Ducati era competitiva perché è la pista dove ha sempre vinto e ovviamente come dicevo anche nei video scorsi una vittoria della Ducati era assolutamente da aspettarsi qui è una vittoria di Dovizioso che il pilota ancora in lotta per il mondiale come vedete lo riporta alla seconda posizione in assoluto davanti a Fabio Quartarro il distacco è veramente minimo sono 11 punti tra il francese e il forlivese il podio è un podio interessante perché festeggiamo il primo podio in carriera di Juan Mir con la Suzuki che si dimostra ancora una volta una moto competitiva dopo che effettivamente ha fatto abbastanza fatica nelle prime competizioni terza posizione per Jack Peter Miller futuro pilota ufficiale della Ducati che ha preso il posto di Petrucci dunque un podio che vede due Ducati di cui una clienti e una Suzuki che dunque riporta in alto il team ufficiale di Davide Brivio e compagni quarta posizione per Brad Binder che comunque poteva far di più per quanto riguarda una KTM che ha dovuto ancora una volta salutare Polissi e Spargerò per ritiro quinto Valentino Rossi che ha fatto una signora gara è la migliore delle Yamaha il pilota di Tavulia e ripeto ha avuto un gran pelo sullo stomaco a ripartire dopo il clamoroso incidente e lo shock conseguente a quello che ha visto come appunto spiegavo in precedenza sesta posizione per Takahaki Nakagami che salva ancora una volta il salvabile dimostra di essere l'onda migliore in pista settimo Danilo Petrucci che appunto in una pista maggiore da Ducati comunque fa una top 10 ottavo Fabio Quartarò come appunto dicevamo nona posizione per Iker Lecona primi punti in carriera per lo spagnolo del KTM Team Tech Troyes e decimo Maverick Vignales che ancora una volta fa una prestazione semi-inspiegabile e di fatto fa il gambero rispetto alle qualificazioni e il Vignales doveva essere evidentemente il pilota che la Yamaha ha scelto e ha puntato per vincere un mondiale evidentemente queste prestazioni dimostrano esattamente il contrario parentesi sugli altri italiani dodicesima posizione per Michele Pirro che è il collaudatore della Ducati ha sostituito Francesco Bagnaia il pilota pugliese essendo appunto Bagnaia infortunato e per il resto qui ci fermiamo è una gara quella di Austria che dunque va a ricominciare a riaprire le lotte per il campeonato mondiale ovviamente io mi aspetto da tifuso della Ducati una vittoria ulteriore di Dovizioso che potrebbe ovviamente capitalizzare quella che sono le gare di Stiria e di Austria il podio Erez ha fatto in modo che Dovizioso si difendesse è mancato nelle altre due gare qui può tornare assolutamente alla ribalta e sarebbe incredibile quanto secondo me bello e godurioso che Dovizioso vincesse questo tanto agognato titolo del mondo per una volta che Mark Marquez non è per infortunio e sarebbe un modo senza dubbio particolare per lasciare una scuderia che oggettivamente l'ha trattato abbastanza male senza usare mezzi termini lasciandolo praticamente alla porta passiamo alla Moto2 che appunto abbiamo già parlato prima con l'incidente di Sierin e appunto Enea Basterini è cambiato anche qui la leadership del mondiale non vince il leader ovvero Luca Marini vince lo spagnolo Jorge Martina la prima vittoria in Moto2 per lui sua dalla marcia reale lì nazionale spagnolo secondo Luca Marini il fratellastro di Valentino Rossi con questa seconda posizione si issa leader del mondiale considerando che Basterini dopo il centro non è più ripartito sono soltanto 5 i punti di distacco del pilota marchigiano terza posizione per Maltzer Schroetter pilota molto esperto tedesco della Moto2 Schroetter corre per il team Dynavolt diciamo che anche qui dopo 4 gare anzi 5 perché la Moto2 ha corso anche in Qatar è evidente quanto i valori si stanno più assottigliando Tetsuta Nagashima è sparito dopo le prime due competizioni è salito in cata da Sam Lowes che è un altro pilota esperto di Moto2 è salito Jorge Martina che secondo me è lui il vero protagonista di KTM per quanto riguarda il mondiale Moto2 e attenzione perché sia Marini che Basterini devono stare attenti a un pilota che in Moto2 è sempre stato un animale da qualifica e ha concretizzato spesso in gara Martina è un pilota che a me piace tantissimo ovviamente insieme anche al best di Rimini e Nea Basterini che purtroppo è stato sfortunato per via di quella caduta vedremo se il pilota del team Italtrans potrà rifarsi nella prossima gara settimana prossima parliamo invece della Moto3 perché a differenza della Moto2 e della MotoCP la Moto3 sembra già un campionato molto più indirizzato qui c'è un vero e proprio dominatore che è Superman Albert Arenas che vince la terza gara su 5 competizioni e ancora una volta per lui suona la marcia reale gara vinta in volata su Haube Masia che è un pilota che esordì in questa pista facendo molto bene il pilota attualmente in forza il team Leopard e terza posizione per John McPhee che si sale sul podio sì però con in realtà un po' di ritardo perché molti piloti sono stati penalizzati per aver ecceduto i limiti della pista e dunque per regolamento all'ultimo giro se vengono sorpassati i limiti dalla pista il pilota poi analizzato deve eccedere automaticamente una posizione e dunque per esempio Darren Binder è stato penalizzato anche Celestino Vietti il miglior italiano è stato penalizzato e dunque lo scozzese John McPhee il venerabile maestro della Moto3 fa il terzo podio in 5 gare anche se non ha mai vinto e sarà al secondo posto in questo campionato che tolto Arena se sembra abbastanza equilibrato quindi evidentemente Raul Fernandez gli italiani sono sempre invece lì in lotta per le mie 10 posizioni ma non riescono mai purtroppo a concretizzare quello che magari di buono possono fare visto che sono tanti e anche molto competitivi e dunque concludiamo qui il nostro Racing Podcast per quanto riguarda la MotoGP seppur del giorno dopo Racing Podcast che tornerà questa domenica alle ore 19 perché appunto ci sarà la seconda gara di Austria per quanto riguarda la MotoGP Moto2 e Moto3 il Gran Premio di Styria per quanto riguarda il 23 di agosto e intanto fatemi sapere cosa ne pensate di questo mondiale MotoGP con la vittoria Vido Vizioso e tutto quello di cui ho parlato in questo video vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto in descrizione ci sono anche il mio primo canale e la pagina Facebook il saluto da parte di Matthew Torqued e ci vediamo dunque presto al prossimo video